E' la Sicilia il banco di prova per testare la solidità del centro-destra. Sono giorni di trattative febbrili per la coalizione che non riesce ancora a trovare una quadra sulle candidature di Palermo e Messina e sulla ricandidatura del presidente della regione nello Musumeci. Ecco perché Giorgia Meloni lancia segnali neanche troppo trasversali al tandem Salvini-Berlusconi. Sono gli altri partiti della coalizione che devono dire se per loro la priorità è far vincere il centro-destra o piuttosto frenare la crescita di Fratelli d'Italia. Così la leader di FDI ha risposto alla domanda dei giornalisti che le chiedevano se il centro-destra sarà in grado di presentarsi unito alle prossime elezioni amministrative. Sicuramente FDI ci ha precisato Meloni nel senso che noi stiamo lealmente sostenendo tutti i sindaci uscenti del centro-destra. Stiamo dando il via libera dove ci sono proposte serie e credibili che vengono portate avanti. Per noi far vincere il centro-destra è sempre un priorità. Credo ha evidenziato che la domanda vada fatta ad altri, perché noi ancora aspettiamo il via libera di alcuni partiti della coalizione su sindaci uscenti di Fratelli d'Italia. Così come aspettiamo il via libera dei partiti di centro-destra per esempio alla ricandidatura di un governatore di centro-destra in Sicilia, Nello Musumeci. Insomma, Meloni in versione Sartre, l'inferno sono gli altri.